Buongiorno a te Luca, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Serra Monacesca in via Marconi, alle nostre spalle potete vedere inquadrate anche dalla telecamera di Luca Corneli il municipio. Ed è proprio in questa piazza che si trova il quartier generale delle ricerche dei circa 40 volontari che sono sulle tracce di Franz Ferrante, il 49enne avvocato pescarese disoccupato che risulta disperso ormai praticamente da domenica da quando i genitori non l'hanno trovato in casa e si sono messi a cercarlo facendo poi anche denuncia ai carabinieri di Pescara. L'allarme qui a Serra Monacesca è arrivato in tarda serata di domenica, come ci diceva anche Daniele Di Valerio che è il comandante della polizia municipale di Serra Monacesca che è con me in questo momento. Voi domenica sera avete ricevuto le prime notizie della macchina di Franz Ferrante che è stata trovata in contrada Pianapù proprio a Serra Monacesca dove comincia un sentiero che porta verso l'eremo di Santonofrio. Vi siete messi, ci dicevate, subito sulle tracce di Franz Ferrante e cos'è che avete fatto nell'immediato? Si è provveduto ad identificare l'autoveicolo, a risalire al proprietario e quindi ad avere conferma di questa scomparsa appena denunciata peraltro perché noi siamo venuti a conoscenza di questo fatto intorno alle 21.15 di domenica sera. Le ricerche sono iniziate immediatamente anche se poi la notte purtroppo non è che si riesca a vedere troppo ma il tempo era anche abbastanza inclemente in quel frangente quindi abbiamo deciso di rimandare tutto all'indomani alle prime luci dell'alba. Infatti le ricerche sono iniziate nuovamente e non si sono mai interrotte da quel momento. Salvo lunedì notte quando praticamente c'è stato un temporale, insomma le condizioni meteo erano davvero proibitive e vi siete dovuti fermare per fuori? Un temporale qui in paese ma nella zona interessata addirittura nevicava quindi abbiamo dovuto proprio interrompere completamente. Però poi da martedì mattina praticamente si sta lavorando, lo diciamo ininterrottamente con i vigili del fuoco che sono appunto in questo quartier generale della piazza del municipio di Serra Monacesca e che coordinano un po' tutte le ricerche in costante contatto appunto con la prefettura ma oltre ai vigili del fuoco c'è anche la protezione civile, c'è il soccorso alpino, ci sono i carabinieri forestali e ci sono anche due elicotteri che si alzano in volo dandosi il cambio per cercare di mappare un po' il territorio, uno un elicottero della polizia di stato, l'altro l'elicottero dei vigili del fuoco, ci sono anche i cani molecolari del soccorso alpino e ci sono i volontari della misericordia di Pescara. A proposito dei cani molecolari del soccorso alpino dobbiamo dire che all'inizio era stata agganciata una traccia proprio nei pressi del sentiero della macchina di Franz Ferrante traccia che però poi è stata abbandonata, diciamo che non ha condotto da nessuna parte. No, purtroppo non si è riusciti ad andare da nessuna parte con questi cani molecolari che hanno perso diciamo di fatto l'orientamento e quindi si sono riavvicinati al padrone e a seguito di questo si è deciso di impiegare invece anche i droni dove gli elicotteri non arrivano, quindi sono impiegati anche dei droni che riescono ad avvicinare diciamo il terreno in maniera più precisa e più particolareggiata. Però purtroppo nemmeno l'impiego dei droni ha dato gli esiti sperati, fino a questo momento perlomeno. Comandante, lei è di Sera Monacesca quindi il territorio chiaramente lo conosce bene, questo è un territorio di montagna che fa parte del Parco Nazionale della Maiella quindi fiumi, torrenti, valli, calanchi, monti, boschi, quindi è un terreno anche particolarmente difficile da setacciare? È un terreno particolarmente difficile da setacciare perché è un terreno particolarmente impervio ma c'è da aggiungere che questo è un territorio dove esistono molti animali selvatici dagli ungulati ai lupi, alle volpi, agli uccelli rapaci e quindi insomma io non le voglio dire altro ma i pericoli sono dietro l'angolo specialmente per chi decide di avventurarsi in montagna senza compagnia, senza un minimo di accortezza anche se si è profondi conoscitori della montagna ma la montagna deve essere assolutamente rispettata perché altrimenti potrebbe riservare delle sorprese amare. Esatto, Franzo Ferrante però va detto che è un amante della montagna, un esperto conoscitore della montagna ed anche escursionista per cui davvero la speranza più grande è proprio quella che si sia rifugiato da qualche parte e che magari stia aspettando davvero che qualcuno riesca a rintracciarlo. È quello che ci auguriamo tutti, speriamo di poterlo riabbracciare in ogni momento che segue a questo momento insomma e le ricerche continuano e siamo tutti pieni di speranze però purtroppo è già passato un bel po' di tempo e quindi magari potremmo ipotizzare anche qualche cosa di infausto. Noi continuiamo naturalmente però a sperare, certo le ipotesi sono tante purtroppo ma continuiamo ad avere e a cercare ad attendere notizie speriamo positive ovviamente anche perché la macchina delle ricerche la vedete in continuo movimento e in costante contatto con la prefettura, i vigili del fuoco appunto stanno coordinando tutte le ricerche e sapranno eventualmente aggiornarci anche su un esito speriamo davvero felice di questa vicenda. Speriamo. Grazie, grazie allora al comandante della Polizia Municipale di Serra Monacesca, Daniele Di Valerio. Luca se non hai domande dal studio io ti restituirei la linea. No va benissimo così, grazie, grazie Anna, ringraziamo anche il tuo ospite e speriamo davvero che si possa ritrovare ancora in vita Franz Ferrante, magari si sarà rifugiato da qualche parte e speriamo davvero che abbia un buon esito questa lunga ricerca.